Il ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova farà tappa nelle Marche martedì prossimo 4 agosto. Dopo una mattinata trascorsa a Dancona, Bellanova nel corso del pomeriggio arriverà a Fano e visiterà alcuni dei luoghi più importanti del comparto dell'agricoltura fanese. Sono veramente entusiasta di partire in questa campagna elettorale con il ministro Bellanova, quindi il ministro Bellanova che sostiene il candidato a consigliere regionale Federico Talè. Sono entusiasta per due motivi. Uno perché il ministro, anche per i trascorsi di vita che ha avuto, è un ministro che racchiude in sé un sacco di valori. E due perché è il ministro dell'agricoltura. Il ministro dell'agricoltura che oltre ad essere da sempre la mia passione è anche un tema centrale per quanto riguarda l'economia della provincia di Pesaro, della regione Marche, ma soprattutto io direi del fanese, di Fano. Tant'è che il pomeriggio comincerà con una visita alla cooperativa Falcineto, una cooperativa storica del fanese. Dalla cooperativa Falcineto andremo all'ACOF e all'ACOF faremo una tavola rotonda dove saranno presenti vari attori del settore agricolo e presenteremo al ministro le varie difficoltà che questo settore trova appunto nella regione Marche, nella provincia di Pesaro, ma anche proprio a Fano. Da lì ci spostiamo al CODMA perché anche il CODMA è una realtà diciamo quasi unica nella regione Marche e dal CODMA passeremo al Consorzio Agrario. Consorzio Agrario Provinciale che non è a Pesaro ma proprio per questo dicevamo che è centrale l'economia, l'agricoltura a Fano, tant'è che il Consorzio Agrario Provinciale si trova proprio a Fano. L'occasione della presenza del ministro sarà quella di partecipare alla presentazione e sostenere il candidato alle regionali delle Marche Federico Talè. Dopo queste tappe ci spostiamo alla Sassonia sotto la tensostruttura, naturalmente l'agricoltura e anche il turismo quindi abbiamo scelto questa location dove insieme al ministro Bellanova comincerò da lì la campagna elettorale per tutta la provincia di Pesaro. Quindi ci vediamo martedì 4 alle ore 18.30 alla tensostruttura della Sassonia. Grazie. Grazie. Grazie.